Benvenuti alla settima puntata di Parazza Quiz Il film da indovinare l'ultima volta era Sangral, La spada di fuoco e il fortunato vincitore di questa settimana è stato Simone Dall'Osto Simone Dall'Osto che oggi è con noi Prego, facciamolo entrare Grazie, ciao, ciao a tutti, grazie per il tuo premio Guardate, una splendida mappa del tesoro Ci stiamo? Sì, scusate Sei contento del premio? Molto contento, spero di riuscire a trovarlo questo tesoro Spiegaci un po' come è indovinato questo nostro film Allora, niente, grazie agli aiuti Sì, io un po' da furbetto sono andato a vedere su Facebook, diciamo e sulla vostra pagina I vostri film Ho cercato su Fantasy E praticamente ho un po' sfogliato i film Ho visto, dopo ci ho aperto un'altra scheda Vedevo su YouTube quale potrebbe essere stato E allora, come diciamo ogni volta infatti i film sono tutti quanti sulla pagina filmacipare Esatto, gli aiuti servono insomma E facciamo vedere il premio di oggi Il premio in palio è il disco per Windows fino al 2000, non so se va anche su Windows 8 Per il sito dietro della rivista Aeronautica Trentasesimo Storm Sì, è un compact disc Esatto Non so cosa c'è dentro Saranno immagini e documenti e cose da leggere Un premio interessante Beh, ancora impacchettato, quindi ancora nuovo Esatto E bene, allora partiamo con i 30 secondi del nuovo film E ci vediamo dopo Ciao Qui centro controllo forestale Qui centro controllo forestale Rispondete Rispondete Ehi, by scout Non starai mica cercando di chiamare la guardia forestale, vero? Ehi, ma che fate? Fermi, ma che fate? No, ci piacerebbe ridurci a vendere le noccioline ai turisti in visita Capito? Stringo Ehi, ho l'impressione che cercate guardia No, che dici? Si è solo scontrato col mio piede Ok, hai detto la tua stronzata Adesso sparisci Questi erano i 30 secondi del film E gli aiuti ve li darà il nostro ospite Simone Allora, è un film italiano Un film degli anni 80 E è un film di un grande regista figlio d'arte Di un grandissimo regista Grandissimo, sì E, bene, questi erano gli aiuti Volete fare come Simone a spulciarvi la nostra pagina di Facebook Per indovinare, insomma, qual è il film Per rispondere Per rispondere, come sempre Mandate messaggi su Facebook O tramite posta elettronica Come vi pare E vedete tempo una settimana E, niente, vuoi raccontarci qualcos'altro? Simone, cosa fai nella vita? Tipo sei impegnato in qualche progetto adesso? Allora, adesso stiamo facendo un nuovo film Sempre con Amedeo Che inizialmente si chiamava Scam Adesso invece l'abbiamo rinominato in Crossroad E parla della vita di questo personaggio Che è un po' trasandato Che lo interpreto io E stiamo svolgendo le riprese in questo momento E speriamo che venga fuori una bella cosa A presto Tutti questi film si trovano sempre nel canale di Pizzolo Films E queste e altre vogliate varie E niente Chiudiamo qua la puntata Come sempre guardate filmacci brutti Sì Fatevi del male E il calcio, ricordatevi che è totale È totale Totalissimo Come dice il nostro amico comune FG Ok Ci vediamo allora la prossima puntata Amici di Youtubers E niente Ciao 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 Ciao